E' un luogo comune tra i più difficili da sfatare. Prende ancora piede in quella sottocultura che mitizza l'Andrangheta. I mafiosi non uccidono i bambini, si diceva, ma basta tornare indietro di qualche anno per comprendere quanto questa convinzione sia errata. La prima piccola vittima dell'Andrangheta, riportano le cronache, si chiamava Domenica Zucco. Ad appena tre anni morì nell'agguato teso al padre, a San Martino di Tauria Nova. Era il 3 ottobre del lontano 1951. Setacciando le cronache vengono a galla 30 nomi. Mariangela, Luca, Saverio, Arturo, Giuseppe, sono solo alcuni. Tra loro il più piccolo aveva appena 18 mesi. La storia recente narra di due casi che hanno letteralmente sconvolto l'opinione pubblica, andando ben oltre i confini regionali. Nel 1994 moriva Nicolas Green. Il 29 settembre di quell'anno il bambino statunitense di sette anni viene colpito da un proiettile nel corso di un tentativo di rapina mentre si trova in auto sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria nei pressi dell'uscita per le serre nel Vibonese. Con i genitori e la sorellina di quattro anni si trovava in Calabria per ammirarne le bellezze. Morì nell'ospedale di Messina il primo ottobre. Il 25 giugno del 2009 cadere sotto i colpi dei sicari è Domenico Gabriele Dodò nella tristamente nota strage del campetto. Durante una partita di calcetto in un campetto di crotone gli assassini puntano la loro vittima, il pregiudicato Gabriele Marrazzo. Sul terreno di gioco caddero però ferite nove persone. Tra loro anche il bambino di 10 anni, Dodò Gabriele, morì il 20 settembre del 2009 dopo tre mesi di coma.